Massoterapia, il potere delle mani, un benessere profondo. Prenotala da Rebellato Medical Group. DG Plus News, treviso, ben ritrovati. Apriamo con la notizia di politica che arriva da Villorba. Eleonora Rosso ha ufficialmente rassegnato le proprie dimissioni da assessore alla cultura del comune villorbese. Eleonora Rosso aveva già comunque informato il sindaco e la giunta della sua decisione legata a motivi personali la scorsa primavera con l'intenzione comunque di portare a compimento le iniziative culturali attualmente in corso e programmate per la cosiddetta estate di Villorba. Eleonora Rosso cesserà il proprio incarico dunque il prossimo 31 luglio e il primo cittadino Francesco Soligo nelle prossime settimane scioglierà le riserve per indicare il nome del nuovo assessore. Andiamo alla sanità, una comunicazione da parte di azienda zero, nel presso la quale sono in corso una serie di interventi finalizzati al miglioramento delle funzioni di prescrizione e frizione delle ricette elettroniche. È possibile, comunicano dall'azienda, che tutto ciò comporti transitori blocchi informatici con disagi per gli utenti. In caso di blocco dell'applicazione o della singola ricetta elettronica il sistema provvede di norma a un riavvio in tempi brevi e comunque entro massimo un'ora dall'insorgere della problematica informatica dopo la quale sarà possibile per il cittadino accedere alle prevenzioni di richieste. In ogni caso, precisano da azienda zero, gli interventi informatici di sviluppo verranno completati nell'arco di alcune giornate, terminate quando il sistema tornerà finamente operativo. Ho trasmesso oggi alla Presidente del Consiglio Meloni la richiesta dell'attivazione dello Stato di emergenza nazionale. Il maltempo che ha saggelato in questi giorni la Regione Veneto e l'intero Nord Italia ha provocato danni gravi e diffusi oltre gli esperimenti di numerose persone. Sono parole odierne naturalmente dal governatore Luca Zaglia che appunto ha chiesto al Governo il riconoscimento di un'emergenza che per gravità, estensione e durata ha assunto un rilievo di carattere nazionale. Il governatore ha anche richiesto la possibilità di accesso al fondo di solidarietà previsto per i danni. Il documento è stato trasmesso proprio nelle scorse ore agli uffici di governo. Trovate maggiori dichiarazioni in merito di Luca D'Ai nell'articolo dedicato su notiziaplus.it nonché anche un estratto della lettera che l'assessore invece al turismo e all'agricoltura della Regione Veneto Federico Canera oggi stesso ha scritto invece al ministro Lollo Brigida. Entrambi articoli potete raggiungere cliccando sui rispettivi link presenti in descrizione di questa news sotto il video del PG. Incidente a Vittorio Veneto. Un automobilista è finito all'ospedale dopo una fuoriuscita dalla careggiata. L'episodio è accaduto all'altezza dell'incrocio tra Vittorio Emanuele via Dalmazia poco lontano da uno ristorante. Sul posto sono avventurati subito i carabinieri naturalmente della compagnia locale oltre ai sanitari del 118. I soccorritori hanno ricoverato l'automobilista in ospedale a Conegliano con feri di media gravità. Era la guida dell'auto che è finita fuori strada in maniera autonoma provocando grossi danni al mezzo. Con questa news chiudiamo anche il nostro TG Plus News Reviso. Io vi ricordo però come sempre che potete ricevere gratis ogni giorno tutti i nostri contenuti o soltanto quelli che scegliete voi nel vostro smartphone mediante l'app IG Plus.